La commissione d'inchiesta sui rifiuti, istituita a Gela per far luce sulla gestione del servizio, è nella bufera dopo un esposto presentato in procura da uno dei componenti, il grillino Angelo Amato, secondo il quale durante i lavori avrebbe ricevuto delle pressioni da parte degli altri 9 componenti affinché venissero occultate determinate questioni. Accusa che il presidente della commissione, Totogallo, e gli altri componenti respingono con forza. Tra l'altro dice anche che non ha avuto la possibilità di vedere gli atti, io non so come questo sia possibile, un componente della commissione che ha gli atti sul tavolo tutti i giorni delle riunioni e dice che non li ha avuti. La verità è che la commissione ha terminato il proprio mandato, se non ricordo male, l'11 di settembre e lui ha fatto una richiesta di accesso agli atti, tra l'altro, ripeto, atti che lui aveva sempre a disposizione, una settimana dopo. Quindi la commissione era sciolta, io non ero più il coordinatore, quindi il delegato del presidente e non ho potuto rispondere a quella richiesta. Interrogati qualche giorno dietro dalla polizia, i 9 componenti, nel corso di una conferenza stampa che si svolta oggi in municipio, hanno anche tenuto a precisare di non essere indagati e che probabilmente l'obiettivo del consigliere Amato era quello di delegittimare sia il loro operato che le istituzioni. I 9 componenti hanno quindi rivolto un appello alla procura affinché al più presto faccia luce sull'intera vicenda. Sono stupefatto di quello che sta succedendo dietro, dopo aver fatto il lavoro certosino, trovarsi convocati in commissariato per difendere il proprio operato mi sembra assolutamente assurdo. Si dice che la commissione ha dichiarato il falso, allora la commissione ha fatto delle intimidazioni nei confronti di un membro della commissione. Tutto questo non è assolutamente vero e chiediamo alla Prefettura di fare appunto luce su questa questione. Se qualcuno pensa in questo caso il Movimento 5 Stelle che sta condividendo assolutamente attraverso i social network il brillante lavoro fatto dal loro collega Amato, pensa che sia un modo corretto di fare politica per cercare sempre di delegittimare le istituzioni, io penso che alla fine per loro sarà un boomerang perché quando si ingiuria, quando si diffama, quando si usa la delazione come arte politica, poi alla fine tutto gli si ripercuote contro. Eravamo già noi tranquilli del fatto che stavamo conducendo il tutto con la massima trasparenza, con la massima correttezza, con il supporto di tutti i mezzi tecnologici a disposizione, quindi trascrizioni, registrazioni, abbiamo svolto tutte le audizioni possibili e immaginabili, tutte quelle che a volte non condividavamo ma che erano richieste dal collega Amato, quindi sì, l'invito a stare sereno perché volevamo un clima sereno, questo sì, lo confesso.